Senza cuore, rubati i doni ai bimbi di onco-ematologia pediatrica del civico. Ha dell'incredibile quanto successo all'ospedale civico di Palermo. Il reparto di onco-ematologia pediatrica della struttura è stato bersaglio di uno spreggevole furto. Sono infatti stati rubati alcuni doni per i bimbi che si trovano nella struttura. Si tratta di tablet, nello specifico 10, bilance, pesa persone e altri oggetti custoditi con cura da Paolo D'Angelo, direttore dell'unità operativa, il quale li teneva in una stanza. Dopo aver appreso del furto dei doni avvenuto nelle scorse ore, mi sono mobilitato. Ho contattato il direttore Roberto Colletti e, insieme al consigliere di circoscrizione, Maurizio Davi, ho deciso di recarmi presso il nosocomio palermitano e regalare ai bambini i giocattoli che avevamo pensato di destinare ai piccoli del quartiere albergheria per festeggiare l'Epifania. Queste le parole di Salvatore Imperiale, presidente della Quarta Commissione del Comune di Palermo. Tra gli oggetti trafugati è anche un monitor holter, pressorio portatile, donato dall'associazione La Carezza di Vichi e Giorgia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.